Buongiorno, di Maria Imbrogno, chi va a una strada? Chi va a una strada? Chi resta uno spazio vuoto? Passiamo come nuvole che verso nel cuore sulla terra, restiamo come passari smarriti nella tormenta. C'è vento a soffiare sui giorni. C'è fuoco a scaldare pensieri nuovi. C'è speranza ancora. Abbiamo sogni sospesi del tempo come castelli incantati, sempre in attesa di un palpito di vita nuova. Limitizzati tra alberi, fiori e fossi, creature magiche. E' io che cerco parole che dicano quanto oro ho da donare, mentre lupi famelici cercano solo altra carne da sbranare.